Sono una ricercatrice del Dipartimento di Economia, dove mi occupo di management, imprenditorialità e innovazione. Attualmente mi sto occupando di studiare gli ecosistemi di startup a livello europeo, con particolare riguardo ai percorsi di crescita delle startup dall'origine della business idea fino allo scale up a livello globale e di studiare in particolare quelle che sono le dinamiche evolutive dei loro processi di innovazione. Il fine ultimo è quello di favorire una contaminazione tra startup e imprese tradizionali, facilitando il trasferimento di conoscenza in una logica di open innovation, ovvero innovazione aperta e collaborativa.